allora una volta smontati qui qua questa è l'acqua con la bacinella con l'acqua con lo sgrassatore già sono fatta una volta escono pulitissimi adesso ci facciamo un'altra spazzata ora andiamo a immergere sono un po' immersi nell'acqua facciamo un bel po già l'acqua ha cambiato colore ora andiamo a un po' immersi Ok. Strizziamo per bene, mettiamo qua sul panno, adesso andiamo a buttare quest'acqua, andiamo a prendere una nuova, facciamo un nuovo sciacquo e poi le mettiamo ad asciugare al sole, che oggi fortunatamente c'è il sole, si sta benino e si può fare. Ok, ho preso l'acqua nuova, adesso ci facciamo fare un nuovo sciacquo dell'acqua nuova, così le eventuali impurità se ne vanno, facciamo stare dall'acqua, ci metto qualcosa di pesante. Ok, facciamo stare dall'acqua un po', e allora, dopo che saranno stati qualche minuto dentro, così tutte le impurità, altre impurità, insomma, residue dello scassatore se ne vanno, le mettiamo ad asciugare. Se volete anche voi, avete una moto, uno scooter, una Vespa, insomma che c'è il carburatore, e questo è il migliore sistema. Ci sono gli additivi, gli oli, per, però, cioè, questo è facile, una bacinella, un scassatore, e finisce la storia, ed escono pulitissimi. Ok, va bene, allora ci rivediamo di nuovo al montaggio.